Grazie a tutti. Questa è una domanda bizzarra, bislacca e fedifraga. Diciamo che non c'è un termine che rappresenta a me perché non c'è un termine che rappresenta a nessuno, neanche di mia madre potrei dire casalinga, vedi a ridere, oppure non so cosa diciamo di un garetti, poeta, letterato. Fortunatamente nessun uomo è contenuto in un termine. In questi anni ho scritto dei libri di poesia, mi sono occupato molto della poesia degli altri. La poesia è un po' una spesa di occupazione strana perché è un'occupazione dove non girano soldi, però ti occupa molto, ti invade, è un'occupazione quasi militare. E' un'occupazione occupato di poesia. Ieri a Dante09 si è parlato di maestri e allievi. Qual è il suo maestro nella vita e a quale figura poetica si è ispirato, se si è per caso ispirato nel suo percorso? Ma se penso a dei maestri, penso a alcuni nomi, non pochi ma nemmeno tanti. Penso naturalmente a alcune figure della mia famiglia come mio nonno, perché per me è stato importante, essendo una figura di romagnolo, io sono di Forlì, di romagnolo grande, grosso, simpatico e anche duro. E poi penso a un prete di Forlì, che è Francesco Ricci, che mi ha aiutato molto ad aprire la mente e il cuore alle dimensioni del mondo. Era uno che viaggiava tanto, è stato uno dei primi a conoscere Wojtyla, quando era ancora vescovo a Cracovia. Insomma, uno che ha visitato il mondo nei suoi movimenti profondi, importanti e anche profetici. Poi penso solo a figura come Ezio Raimondi, che è stato un mio professore all'università, che mi ha aperto la letteratura come una grande mappa continuamente in movimento, non schematizzabile, non riducibile a nessuna ideologia e a nessuno schema. A Giovanni Testori, sicuramente, come un poeta, uno scrittore estremo, che mi ha insegnato come l'arte diventa vera solamente nel momento in cui si mette in crisi, nel momento in cui sembra morire o diventare altro da se stessa, proprio in quel momento l'arte diventa vera. Oppure, d'altra parte, uno come Mario Luzzi, forse il poeta che ho seguito di più, almeno da cui ho imparato di più, che mi ha fatto vedere come l'indagine, la domanda, è il vero vettore della poesia. La poesia è una domanda al mondo, non è una riflessione, non è un'espressione appena. Sì, è tutto questo, ma è tutto questo perché è una grande domanda. E infine, sicuramente, la figura di Don Giussani, che è stato un uomo per me molto importante, molto simpatico, molto vicino e che mi ha fatto vedere come effettivamente nell'avventura umana il mistero dell'incarnazione, del cristianesimo, come Dio che si fa uomo, l'eterno che entra nel tempo, beh, insomma, è una cosa da giù di testa, c'è una cosa bellissima. Lei ha definito Bologna, la città in cui vive, una città paragonabile a una cicciona, non troppo brillante. Ravenna, invece, che donna è secondo lei? Bologna è un po' facile definire così, non l'ho fatto solo io, immagino, perché è così, è un po' la natura sua e anche la sua tradizione. Ravenna è una donna sfuggente perché ha mille profili, appunto, è bizantina, ma anche medievale, è una donna di quelle che, non so, quando magari sei a una festa o in un bar, le vedi e magari col mutare delle luci sembra che vengono le facce diverse. Questa è una parte inquietante perché dici, ma chi è? Che figura e che profilo ha veramente? Però, d'altra parte, invece, è sicuramente affascinante ed è un invito a scoprirla meglio, a conoscerla meglio. Io credo che da Ravenna, pur essendo tutto sommato piccola, tutto sommato evidente nei suoi tesori, beh, si venga sempre via con l'impressione che c'è ancora qualcosa da scoprire. Parlando di Ravenna, non si può non parlare di chiesa, prima che di Dante. Lei ha detto di essere un cattolico, adesso ha detto che essere cattolico è qualcosa di molto affascinante e avventuroso. Come mai? Beh, perché credo che se un uomo non ha completamente abbandonato la dimensione della propria ricerca, della propria ricerca di significato dell'esistenza, della propria vita, il cristianesimo si pone non tanto come una religione, perché il cristianesimo non è una religione in fondo, ma è un fatto storico che è successo, per cui a uno a un certo punto, un tizio che signora Gesù ha detto di essere Dio, ha fatto certe cose, ha mostrato certe cose, soprattutto mostrando appunto come l'eterno Dio si è fatto uomo, cioè, che vuol dire che se Dio si è disturbato per l'uomo, l'uomo è una grande cosa, merita il disturbo di Dio, il disturbo fino alla morte, che è un disturbo pesante. In questo senso è affascinante perché non solo è una grande nobilitazione dell'uomo, come di tutto ciò che è umano, perché da una parte, dall'altra parte significa anche che l'eterno è entrato nella storia e allora tutta la storia la si guarda in un altro modo. E veniamo a Dante, le faccio due domande in una. Perché ha deciso di studiare Dante nella sua vita e come è andata Dante 09 quest'anno? La decisione di studiare Dante è come per uno che si occupa di poesia, è come per uno che si occupa di calcio, guardare le partite di Maradona, cioè bisogna guardare il migliore, anche lì, come sempre, anche nel calcio è difficile, Maradona, Pelé, Dante o Shakespeare, sono quelle cose, però voglio dire il migliore di fatto, sì, Omero, d'accordo, poi è tra i migliori, quindi uno che si occupa di poesia se non guarda Dante, se non si fa i conti, se non si immergine un corpo a corpo con Dante, se non fa un suo viaggio personale, cioè non accontentandosi appena di quello che dicono altri, ma provando a guardare per sé, come tutti i lettori devono fare. Cosa dice Dante? Beh, allora la sua avventura nella poesia non può essere molto povera, tanto più per un italiano che lì trova anche la radice della lingua e poi tutta la lingua che ruminiamo ancora, quindi senz'altro questo. In questo senso, ecco, forse Dante 09 per me è un modo anche perché non solo lo studio, ma anche la condivisione, ma la condivisione è anche un modo per studiare, perché insomma studiare vuol dire prendersi cura delle cose, e allora c'è un modo di prendersi cura che può essere, non so come ho fatto io recentemente, pubblicare un libro di saggi, scrivere su Dante in vario modo, eccetera, in modo militante o in modo da studioso, come mi è capitato di fare. Poi c'è un modo di prendersi cura di Dante, è quello di condividerlo con gli altri, di condividerlo in una forma come quella di un festival come Dante 09, dove certe questioni dantesche e importanti per tutti vengono offerte, vengono proposte nel linguaggio che non è quello dello studio letterario o dello studio accademico, ma è quello della condivisione sociale, del pubblico, della festa, questo non ha più o meno valore dello studio di Dante, è un altro modo con cui si condivide Dante.